Se la neve è caduta copiosa in città, ancora di più ha interessato campagne e zone collinarie e montane. Da un capo all'altro del comprensorio lariano, gli imprenditori agricoli si sono mobilitati con trattori spazzaneve per garantire la sicurezza sulle strade, spiega Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Comolecco. Il loro ruolo è fondamentale, soprattutto nelle valli e nelle aree montane, dove continuano ad essere raggiungibili anche i paesi più piccoli e lontani. La Coldiretti Lariana ha raccolto le immagini delle campagne innevate da un capo all'altro delle due province. L'arrivo della neve e della pioggia su gran parte della Lombardia, secondo gli agricoltori, è una manna per le campagne, in allarme per le riserve idriche. Nonostante i disagi, spiega la Coldiretti interprovinciale, l'arrivo delle precipitazioni salva le campagne da una preoccupante siccità fuori stagione. Neve e pioggia sono infatti importanti per ripristinare le scorte d'acqua, a cominciare dai laghi, dove si registrano livelli inferiori rispetto alle medie storiche. In particolare, il lago di Como si trova sotto di oltre 28 cm rispetto alla media, con un riempimento del 20%. Nelle ultime ore, i trattori degli agricoltori Coldiretti si sono mobilitati anche in pianura, come spalaneve e spargisale, contro il rischio gelicidio. In particolare, i mezzi agricoli stanno contribuendo a ridurre i disagi tra Como, Lecco, Varese, ma anche nella Bergamasca e nel Bresciano. Grazie a tutti.